Buonasera, ben ritrovati in onda, in diretta anche questa sera con il socio immancabile e insostituibile Luca Telese. Cominciamo questa sera da tre foto, come ieri, un po' un sommario di quello che vedrete. Abbiamo l'ultima foto di Giorgia Meloni, l'ultima pubblicata da Giorgia Meloni, prima che l'influenza la colpisse nuovamente e le imponesse di rimandare per la seconda volta alla conferenza stampa di fine anno che era prevista per domani, una foto di Natale con sua figlia a Ginevra. Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia, che oggi è il protagonista, perché lui invece la conferenza ha riferito in commissione bilancio, ha parlato anche di messa, di manovra, vedremo cosa ha detto. E poi lui, Matteo Renzi, che secondo le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari è il più ricco del Parlamento. Il paperone. Il paperone. E noi parliamo con Francesca Schianchi della Stampa. Buonasera. Ben trovata, in collegamento con noi Stefano Zullo del giornale Ben trovato Stefano, la professoressa Elsa Fornero, buonasera professoressa e Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano. Torniamo qua, tra quanto è qua? 40, 50 secondi? No, ma noi non ci muoviamo. Pochissimo, state lì. Buonasera, in onda alle 8.45, l'informazione diretta della Sette. Avete sentito da Marianna Aprile i temi con cui apriamo questa puntata e sicuramente c'è un enigma, un giallo o un retroscena, non lo sappiamo. Cioè l'indisposizione di Giorgia Meloni è diventato un fatto politico perché non si sa se riuscirà, non c'è una data, non si sa se riuscirà a celebrare la conferenza di fine anno entro il fine anno. E questo sicuramente è un precedente politico, ma soprattutto c'è l'imbarazzo di Giorgetti sul MES, innegabile, oggi, e c'è quella difficoltà che il Presidente del Consiglio o la Presidente del Consiglio continua ad avere nei rapporti con i giornalisti. Cara Marianna, perché non vai tu a fare una domandina magari a casa, alla Meloni, che così dialogate che avete sempre visto. Una liturgia da rispettare, tra queste salutiamo nuovamente gli ospiti Francesca Schianchi, Andrea Scanzi, la professoressa Elsa Fornero e Stefano Zullo, che sono con noi stasera per iniziare. Hai visto che Zullo ha anche un collage in cui vedo o Montanelli o Claudio Bisio, non so chi sia, però... La notizia del giorno. Lo scopriremo. No, cominciamo da Francesca Schianchi perché appunto il tema lo sollevava proprio Luca, no? Cioè è un'influenza, è una recrudescenza perché già aveva impedito una prima volta l'indisposizione la scorsa settimana, però insomma più o meno tra le righe ci sono anche letture maliziose di questo sotto... Anzi, anche perché ci sono dei precedenti e questo forse mette sotto un'altra luce. Ma guarda, se la Presidente del Consiglio dice di non stare bene, io le credo, perché non le devo credere. Anzi, le auguro di guarire al più presto. Anche perché stanno male tutti in questo periodo, quindi non è difficile credere. Perché non appena starà bene ci aspettiamo questa conferenza stampa, perché questa è la conferenza stampa di fine anno, è quella in cui erano previste più di 40 domande, si può chiedere alla Presidente finalmente su qualunque, la si può interrogare su qualunque argomento, è una cosa che avviene molto raramente durante l'anno, perché diciamo che è una Presidente del Consiglio che si sottopone a pochissime conferenze stampa, preferisce, no? Le dirette social, gli appunti di Giorgia, quelle cose senza domande dei giornalisti. A senso unico, diciamo. E quindi è importante poterlo fare. Non appena se la sentirà saremo lieti di sentire tutto quello che ha da dire, dal MES al patto di stabilità, tanti argomenti che abbiamo visto in queste ultime settimane, in queste ultime due settimane, di cui non abbiamo ancora avuto occasione di chiederle conto. Allora, volevo chiedere a Andrea Scanzi una valutazione, diciamo così, su questa conferenza stampita, chiamiamola così, cioè sicuramente la menone sta male perché non è che si raccontano balle, però un doppio rinvio, probabilmente in una situazione di stress fisico, magari uno dice è una cosa che non mi piace, è un compito in grado, non ho ottimi rapporti, una volta lo raccontammo in diretta con Marianna, a Tunisi ci trovammo a una conferenza stampa in cui si rivolgeva una platea dei giornalisti che non c'era, lì c'era il genio di Mario Siecchi dietro questo escamotage, un'altra volta, un paio di volte ha cazziato i colleghi che gli facevano le domande. Insomma, è come se non fosse il suo sport preferito, strano, perché la Meloni aveva fatto nella fase dell'opposizione della sua abilità dialettica, della sua parlantina, anche del suo corpo a corpo, chiamiamolo così, dialettico, una delle doti più importanti. Quindi tu da biografo, con il tuo saggio, la sciagura, che Marianna adesso impugna ed esibisce come un trofeo, che esegesi fai di questo atteggiamento? Un'esegesi triste e molto deludente. Nel libro c'è un capitolo in cui io la definisco, dico che si sta comportando come una Renzi qualsiasi. Mi spiego, ma in parte l'hai già detto tu nella domanda riflessione. La Meloni ha tanti difetti politici, ha tanti aspetti a me lontanissimi, però è sempre stata una che ha combattuto, in televisione non solo, non è mai scappata. C'è anche un capitolo del suo libro che dice, diciamo in francese, non è una cazzara, e spieghi che cosa intendi con questo francese. Sì, è un complimento uno dei pochi nel libro perché la distingo dai cazzari tra virgolette Renzi e Salvini, diciamo rispetto a Renzi e Salvini è la tace, era la Meloni. Poi non lo è, ma insomma rispetto a loro sì. Però ti dicevo, la trovo molto deludente perché appena conquistato il potere si è nascosta anche lei, o comunque si è trinciarata dietro il monologhismo, che è quello che ha caratterizzato quasi tutti i suoi predecessori. E questo è abbastanza deludente, dimostra una certa insicurezza e dimostra anche una sua allergia alle conferenze stampe. Io mi ricordo moltissimo quella di Cutro, tu prima dicevi il gran genio di Mario Secchi, sì, il gran genio che a volte si addormentava perché la conferenza stampa di Cutro fu uno dei più grandi disastri comunicativi degli ultimi anni. Io non credo minimamente che sia una finzione all'influenza, su questo siamo tutti d'accordo. Diciamo che non le dispiace particolarmente. Se guarisce tra cinque e sei giorni, io spero prima, ma in qualche modo potrai lavorare delle risposte convincenti sul MES, sul patto di stabilità, sull'ennesima figuraccia che ha fatto in Europa. Potrebbe spiegarci una volta per tutto un aspetto di cui secondo me si parla pochissimo in televisione, cioè la scomparsa assoluta della questione morale. In questo governo ci sono ancora ministri, sottosegretari, viceministi tranquilli che sta lì con buona pace della questione morale. Da Del Mastro a Sgarbi, Lollobrigila, non frega niente a nessuno e, e poi mi fermo, sarebbe bello che la Meloni spiegasse anzitutto ai giornalisti perché vuole mettere la firma su una legge bavaglio infame, pericolosissima, le parole non sono mie, ma dell'ex presidente della consulta Maddalena, che è una porcata gigantesca che fa ripensare, fa tornare alla mente gli anni peggiori del berlusconismo, perché significa tarpare le ali all'informazione, che era il grande sogno di Berlusconi, di cui Meloni faceva parte perché la Meloni è figlia del berlusconismo, sarebbe bello che ce lo spiegassi a noi giornalisti e anche a noi cittadini, perché il torto lo fanno i giornalisti ma più ancora gli elettori e le elettrici. Perché vuoi tarpare le ali, vuoi impedire la comunicazione ai giornalisti? Sarebbe bello che ci rispondesse. Ecco, Stefano Zullo, vengo da te con l'aiuto di Giuseppe Conte, che proprio pochi minuti fa ha scritto, affidato a un lungo post sui suoi social, una velatissima accusa alla presidente del Consiglio. Il patto di stabilità, prego la regia se può tornare, ecco grazie, si è avvenato di carico sempre velocissima, il patto di stabilità è un incredibile fallimento di fronte al quale Giorgia Meloni non ha avuto il coraggio di metterci la faccia. Allora, mi sembra di poter fare un esegesi molto facile, Giuseppe Conte non crede all'influenza e pensa sia una fuga da quelle 40 e più domande che già aspettavano Giorgia Meloni a questa conferenza stampa. Ti chiedo se secondo te è una lettura troppo maliziosa, e se ad alimentare questa lettura maliziosa possa essere stato un rapporto comunque non molto lineare con i giornalisti durante quest'anno? No, io non credo, non credo assolutamente. Abbiamo detto che noi siamo d'accordo tutti quanti, a me l'ho sentito prima, sul fatto dell'influenza. Si farà una conferenza stampa fra, non so, tre giorni, cinque? Sarà il 3 gennaio, quindi non è più di fine anno, ma è all'inizio del nuovo anno? Non mi pare che sposti il problema. Sono d'accordo sul fatto, per usare termini di cronaca giudiziaria, che la Meloni prediliga le dichiarazioni spontanee al controesame in aula. Detto questo, alle domande risponde... Sei perfido, Stefano. Non vorrei, ecco, non vorrei che si... Sono perfido, però sono anche, vorrei dire anche, da come avete parlato più o meno tutti quanti, qualcuno che si sintonizza adesso potrebbe pensare che siamo più o meno alla vigilia dell'ingresso in un regime semidittatoriale. Non mi pare il caso, non mi pare il caso. Mi pare che siamo in tutt'altra situazione. E mi pare anche, scusate, e no, perché sento dire, non ci mette la faccia, è in fuga. No, è Giuseppe Conte, io leggevo il post di Conte. Era il titolo di Conte, Stefano. No, sto sentendo, vorrei... Sì, lo so, ma non solo Conte. Prima Scanzi ha detto, ha fatto tutto un ragionamento dicendo una figuraccia che ha fatto in Europa. Io dico che il patto di stabilità, e torno anche a Conte, secondo me, poi vedremo, non è una figuraccia, perché l'Italia ha portato a casa alcune questioni che non erano affatto scontate. La figuraccia l'ha fatta la Germania, ma siccome la Germania, con la Corte Costituzionale, che ha di fatto detto che il governo imbosca i conti dello Stato, predica il rigore in Europa, ma poi fa i trucchi sotto banco, l'ha detto la Corte Costituzionale tedesca. Fosse successo in Italia, sul governo Meloni, a quest'ora saremmo a fuoco e fiamme. È stato detto in Germania, scusate, non frega niente a nessuno di quello che la Corte Costituzionale tedesca, non Zurlo e il Germano hanno detto, e la Germania va avanti tranquilla. La Germania è contro l'Unione bancaria, mi sembrerebbe un tema, da nove anni blocca l'Unione bancaria, mi sembrerebbe un tema gigantesco, però si parla solo del MES, poi parliamo del MES. Comunque, la Meloni, secondo me, risponderà alle domande, poi avrà tutte le sue questioni in sospeso, ma questa conferenza stampa potrebbe anche essere l'occasione per spiegare agli italiani che il patto di stabilità, per come era partito, si era addrizzato, non dico tutto, ma un bel po'. Ci sono degli elementi di flessibilità molto importanti e lo scorporo di alcune voci. Non sono cose scontate. Guardate che la stazione era partita in un modo catastrofico sul patto di stabilità. E chiudo, non Zurlo, ma Mario Monti, Mario Monti, che era Presidente del Consiglio della qui Presidente ex Ministra Fornero, ha scritto, come sapete, sul Corriere, dicendo che di fatto bisognava mettere il veto, l'avete letto, quell'articolo di Mario Monti. Quindi, voglio dire, ragioniamo un attimo, perché se no sembra che qua siamo appunto leggi bavaglio, fuga dalla conferenza stampa, opposizione scatenata con il governo in fuga. Non mi pare che sia questo il quadro. Pur tra criticità, errori, difficoltà. Volevo aggiungere, scusami, già che ci sono, facevo la mia conferenza stampa. Velocissimo, perché così andiamo anche dalla professoressa Fornero. Solo una cosa, solo una cosa. Siccome prima ha citato giustamente scansi alcuni soggetti del governo che a me non stanno neanche particolarmente simpatici, del Mastro non mi sta molto simpatico. Però parliamo di una rivelazione di segreto che è una forma di dilettantismo assoluto dal punto di vista politico. Però parliamo, come lui sa benissimo, meglio di me, di un reato dove la Procura due volte ha chiesto l'archiviazione. Quello è un processo morto che non va da nessuna parte. Non vedo perché uno si deve dimettere per un processo morto che non va da nessuna parte. Non abbiamo il caso del Mastro perché... Sì, non abbiamo il caso del Mastro perché lì si aprono altri... No, sono sceso perché... Perché... Si aprono altri... Scenari. Altri scenari. Invece andiamo dalla professoressa Fornero. Io volevo chiedere alla professoressa Fornero e chiudiamo la pagina della conferenza Fantasma che però non è aria fritta. È un tema di metodo, di forma, di continuità istituzionale e le forme esistono. Io ricordo diverse conferenze stampa in cui Berlusconi addirittura una volta svenne pur di essere presente malgrado Zangrillo gli dicesse che non era in condizioni di farlo. Allora volevo chiederle questo. Intanto il caso che citava Scanzi sia pure, diciamo, di sponda era quello famoso della domanda del giornalista del fatto che la mise molto in difficoltà su Gian Bruno a cui lei diede una risposta efficace cioè non chiedetemi più niente non chiedete a un presidente del Consiglio cos'è la conferenza stampa però dando una percezione di fastidio per la domanda. Questo si può dire. Voglio chiedere a lei che certo non è passibile di simpatia per questo governo professoressa se però visto che lei l'ha vissuto quello stress entrata nella storia della letteratura le sue lacrime di commozione cioè se veramente ci sia proprio sia una prestazione difficile come per un giocatore tirare un rigore nella finale Coppa del Mondo andare in una conferenza stampa così e magari avendo un carico sulle spalle questa sarebbe poi la prima conferenza stampa in cui lei è interamente responsabile della manovra e degli accordi dell'anno. guardi c'è una parola che ha usato mi pare scansi che rivela molto perché lui ha detto riconosco a Giorgia Meloni di essere una combattente e quindi in un certo senso si stupisce pur dando per scontato che in questi giorni ci sia effettivamente l'influenza e le auguriamo di guarire in fretta tutti però è come se per affrontare una conferenza stampa uno dovesse effettivamente essere un combattente affrontare una conferenza stampa ed è giusto che i giornalisti facciano le domande difficili le domande rispetto alle quali si può anche mostrare qualche volta un po' di fastidio qualche volta un'emozione però è anche vero che era che questa è un appuntamento rispetto al quale gli italiani prima dei giornalisti si aspettano molte risposte per esempio su questi fatti europei su cui l'interpretazione è stata eminentemente politica e quindi se uno legge i giornali di destra questi descrivono la Meloni come una grande stratega che ha vinto in Europa e viva e viva se invece legge i giornali di sinistra è una perdente su tutti i fronti e quindi uno che cercasse di essere neutrale non ci capisce niente allora le domande da fare a Giorgia Meloni sul suo atteggiamento in Europa su che cosa pensava di ottenere tenendo il messa bagnomaria quanto contava effettivamente di ottenere di più sul patto di stabilità queste sono domande che sono importanti per i cittadini italiani per migliorare la partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche che non sono solo una questione di governo tanto più se non si è come oggi non si è come non vorremmo tornare a essere in condizioni di emergenza dove invece il dialogo con i cittadini è necessariamente sacrificato questo è un punto assolutamente tra l'altro molto attuale perché insomma si inserisce diciamo in una lettura più ampia insomma a cui poi magari arriviamo in chiusura però oggi però qualcuno ha parlato ed è il ministro dell'economia Giorgetti che ha risposto alle domande dell'opposizione e anche diciamo a qualche pungolatura di qualche alleato di governo in commissione bilancio alla camera vediamo una clip e poi Francesca Schianchi ci aiuta a capire con chi ce l'aveva clip 1 è un compromesso un compromesso verso il basso un compromesso verso l'alto io ho detto e ribadisco che la valutazione rispetto a questo patto di stabilità e crescita lo faremo fra qualche tempo però un concetto deve essere chiaro perché a mio giudizio tutta questa discussione è viziata è viziata dalla allucinazione psicadelica che abbiamo vissuto in questi quattro anni in cui abbiamo pensato che gli scostamenti si potessero fare che il debito si potesse fare che il deficit si potesse fare che si potesse tranquillamente andare avanti così senza tornare a un sistema di regole ora Giancarlo Giorgetti tu mi confermi è della Lega la stessa Lega che a proposito di allucinazioni della spesa senza regole ha nei suoi programmi elettorali e di governo degli ultimi anni quota 100 la flat tax è la voce di costo quasi più alta in termini assoluti le partite IVA per i dipendenti insomma tutte cose molto costose la fine della legislatura per tutti quanti però sappiamo tutti che non ci si può arrivare con chi ce l'aveva Giorgetti anche un po' con i suoi o solo con insomma lì in quella parte che avete estrapolato lui stava parlando del super bonus quindi lui diceva Mariana segniamoci che c'è un sorriso della Fornero e poi gli chiediamo stava parlando del super bonus e quindi diceva appunto dice che addirittura le cifre sono più alte di quelle che erano state previste per la Nadef e perché ne parla non è un caso perché sta ancora discutendo con Forza Italia quindi con un'altra forza di maggioranza su un correttivo Forza Italia vorrebbe una piccola proroga lui oggi in commissione bilancio l'ha definito insomma l'ha paragonata ancora una volta a una centrale nucleare che poi non riusciamo a gestire sarà contento Salvini che le vuole costruire in centro a Milano questo patacone di corrente con i danni delle centrali nucleari diciamo che il messaggio forse era per i compagni di governo ma anche quello che tu dici è giusto insomma la Lega è quella che ha voluto quota 100 non ricordo più quanti miliardi è costato ma parecchi quindi quando lui dice siano stati drogati dal fatto di poter far deficit e non sarà più così è un messaggio un po' a tutti quanti ma io direi in particolare chi governa con lui visto che è a loro che deve spiegare sono una stoccata a Conte e ai genitori del super bonus a Conte e all'opposizione sicuramente d'altra parte oggi in commissione bilancio gli hanno chiesto ma è lei il ministro dell'economia o è Claudio Borghi insomma voglio dire l'hanno provocato e quindi lui ha risposto noto solo se mi posso far mente che sul patto di stabilità è meno ottimista di Zurlo perché quello che lui ha detto oggi sul patto di stabilità è che gli hanno chiesto è meglio o peggio è peggiorativo rispetto alla prima proposta lui ha detto forse sì ma vedremo faremo qualche faremo meglio tra qualche regola ma un po' peggio della prima proposta ma anche detto abbiamo introdotto del caos in un sistema già complesso quindi insomma mi sembra meno ottimista di Zurlo speriamo abbia ragione io direi di andare da Andrea Scanzi facendoli però vedere proprio la clip su Superbonus ci voglio mettere un po' di sale a me sembra un po' un gioco delle parti cioè ieri qui Corrado Formiglia ha detto una cosa che secondo me è molto azzeccata cioè il premio è stato forte già c'è fortissimo questo mi sembra veramente un po' una sorta di una piccola soddisfazione dialettica perché poi non incide gli scontri Tremonti Berlusconi lo abbiamo ricordato sono state testate polemiche giorni retroscena questo l'allucinazione di cui parla Giorgetti è un po' di era fritta invece il Superbonus sono soldi veri che stanno sul piatto quindi si chiede rigore ma poi dopo vediamo Superbonus è una norma fatta in un momento eccezionale purtroppo ha degli effetti radioattivi come la centrale nucleare continua a fare degli effetti che in qualche modo non riusciamo a gestire bisogna uscire dalla fase in cui ci siamo assuefatti a questo LSD che abbiamo preso per quattro anni e piano piano eliminare punto per punto tutte queste misure che non ci possiamo permettere quindi allucinazioni LSD metafore lisergiche ma la domanda vera è davvero la donna forte la premier forte se d'accordo diciamo con la tesi formigli per semplificare che un po' anche nel tuo libro ma senza dubbio comanda lei è una delle grandi problematiche di questo governo è che c'è una classe dirigente pessima attorno alla Meloni che ripeto non è la Thatcher ma se la paragoni all'olio Brigida e al 90% dei ministri sottosegretari eccetera sembra chissà che allora intanto su Giorgetti io veramente rivedendo queste immagini raramente ho visto uno così in difficoltà salivazione azzerata metafore a caso l'LSD sembrava che fossimo usciti dal concerto dei Pink Floyd del 67 non so di cosa stesse parlando a un certo punto ha detto psicadelica invece che psicadelica cioè veramente si vedeva abbastanza si vedeva abbastanza in difficoltà e ci sta perché Giorgetti è il grande sconfitto di questi giorni voleva il mess non l'ha ottenuto voleva un patto di stabilità appena appena migliore di quello che è stato io vi ricordo che quattro giorni prima che venisse accettato questo patto di stabilità ad Atreiu Giorgetti disse testuale figuriamoci se io accetto un patto in videoconferenza non solo l'ha accettato il giorno dopo ma l'ha accettato dopo che il giorno prima si erano visti Francia e Germania diviso e avevano deciso quello che noi avremmo dovuto accettare e ci sono tanti non solo Schianchi o Giorgetti ma anche per esempio un think tank belga che si chiama Bruegel e sicuramente la professoressa Fornero lo conosce che dice che questo patto di stabilità ci costerà in sette anni dai 12 ai 13 miliardi l'anno di tagli immaginate dei tagli ogni anno di 12-13 miliardi che vanno a incidere dove? sul sociale sulla scuola sulla sanità quindi Giorgetti è il grande sconfitto vi ricordo che Giorgetti non è anche lui questo gran genio perché Giorgetti è quello che voleva mettere Draghi capo di Stato e quello che aveva indotto Di Maglia ad andar via dei 5 Stelle a fare sta grande congiura che non si sa bene dove è arrivato io sento dire da anni che Giorgetti è l'anti Salvini e sarà il futuro della Lega in qualche modo più centrista che Destorza trovatemi un elettore uno non dieci uno di Giorgetti trovatemelo uno che non vede l'ora della Lega che la Lega venga data in mano a Giorgetti quindi Giorgetti non è esattamente questo grande fenomeno quindi ci sta che ogni tanto inciampi però attenzione e qui esposo la tesi di Telese io non ce la vedo questa grande guerriglia perché Giorgetti ha una funzione fondamentale in questo governo e qui c'è un'altra intuizione furba della Meloni nel momento in cui la Meloni è andata al potere si è disinnescata sui due aspetti chiave nevragici che avrebbero disturbato i poteri forti cioè l'Unione Europea al patto atlantista eccetera eccetera cioè si è disinnescata sulla politica estera demandando tutto a Biden in buona con buona pace della lotta all'atlantismo quando faceva parte del movimento sociale italiano e sulla politica economica ha scelto Giorgetti perché Giorgetti rassicura i poteri forti la Meloni ha vinto le elezioni dicendo rovescerò i tavoli basta con i poteri forti è finita la pacchia e ci ha messo Giorgetti che era più draghiano di Draghi di cosa stiamo parlando quindi Giorgetti può abbaiare alla luna quanto volete ma sta lì perché rassicura i poteri forti che la Meloni si guarda bene dal voler combattere ecco professoressa Fornero abbiamo un'altra clip che riguarda il MES la cui storia ormai decennale insomma affonda le sue radici anche negli anni che in cui lei era coinvolta in prima linea al governo si vede che ogni volta che ospite da noi Salvini parla della Fornero che ha detto strano strano che ha detto tutti i giorni parla della professoressa Fornero quindi non è il caso la prepariamo vai vai no leggi l'agenzia prima le agenzie allora Salvini l'abolizione della Fornero non faccia quel sorriso resta per noi una battaglia sacra addirittura siamo al misticismo giorni di Natale lisergici mistici e quindi rimane un obiettivo della Lega e dell'intero governo da qui alla fine della legislatura chi vincerà a questa sfida il tempo vedremo se il tempo ci dirà se questo è davvero così però torniamo al MES perché appunto era il tema di cui il ministro Giorgetti aveva detto che non avrebbe parlato in audizione alla Camera invece ne ha parlato sentiamo cosa ha detto e poi andiamo dalla professoressa Fornero io non ho mai detto né in Parlamento né in sede europea né in nessun'altra sede che l'Italia avrebbe ratificato il MES ho detto che come ministro delle finanze avere uno strumento in più rispetto a queste situazioni di potenziare il pericolo sarebbe stato più comodo ovviamente anche comodo a livello personale facevo bella figura ma quello che vorrei dire qui che il MES non è né la causa né la soluzione del nostro problema perché il nostro problema si chiama debito ecco professoressa Fornero come si sposa l'agenzia che ha appena letto Luca sulla progressiva abolizione della legge che porta il suo nome che è un'abolizione costosa per le casse dello Stato come si sposa quell'affermazione di Matteo Salvini e quello che abbiamo appena sentito dire da Giancarlo Giorgetti che giustamente da ministro dell'economia accende un faro sull'elefante nella stanza cioè il debito del paese che è inscalfibile a quanto pare semplicemente non si sposa forse Giorgetti quando parlava di allucinazioni aveva in mente non soltanto il super bonus e grillini ma aveva in mente anche non solo alcune spese fatte anzi tante spese fatte che forse sarebbero state anzi senza il forse che sarebbero state meglio indirizzate altrove soprattutto per creare posti di lavoro perché noi abbiamo ancora un'occupazione seppure lievemente in crescita che è la più bassa in Europa parte la Grecia ma anche senza quindi generare quel supporto alla crescita che è necessario ecco quindi lui aveva parlava di allucinazioni anche perché Giorgetti sa benissimo che con la dinamica demografica che abbiamo e con la debolezza strutturale che caratterizza il nostro paese non da oggi che quindi non è colpa di questo governo ebbene noi non possiamo permettercela una controriforma delle pensioni Giorgetti non fa il politico anche se poi sta nella Lega accetta troppe cose della Lega e farebbe bene a distaccarsene una volta per tutti a essere chiaro al 100% e non solo all'80% ma Giorgetti ogni giorno anche se le aste del debito pubblico non vengono fatte giornalmente ogni giorno deve portare dentro casa dentro le casse dello Stato più di un miliardo perché noi abbiamo bisogno di gente che ci faccia credito e non sono solo i risparmi immonda che la fornero allora voglio che lei faccia una scommessa secondo lei lo faranno o no entro 4 anni ma no perché non è pronta a scommettere ma certo che sono pronta a scommettere 100 euro mi dica di più guardi mi dica Salvini quali giovani saranno in grado di pagare le pensioni di un numero crescente di pensionati non solo perché grazie al cielo e forse anche al nostro paese in cui si vive bene le persone vivono più a lungo ma perché se abbassiamo ancora l'età pensionabile ingrossiamo le fila non dei lavoratori ma dei pensionati e creiamo al tempo stesso lavoratori poveri e pensionati poveri ma questo è come avere come essere alla guida di una macchina e andare dritto a sbattere non ce la faranno mai perentoria l'opinione della professoressa Fornero io però vorrei andare da Stefano che vedevo scalpitare e voler replicare però ci aggiungo una domanda Stefano una domanda diciamo che come dire la cui risposta avremmo avuto a consuntivo della conferenza stampa di domani della Presidente del Consiglio Meloni la faccio a te rispetto a un anno fa si sta meglio o si sta peggio rispondo io al posto su esatto ti diamo questo faccio leva sulla tua onesta intellettuale e ti chiedo se l'Italia il paese i conti del paese le prospettive del paese sono migliorate o peggiorate rispetto a un anno fa beh io partirei da un elemento che citava prima la professoressa Fornero l'occupazione è in crescita lei ha parlato di deve crescita abbiamo raggiunto però dei risultati dei record sull'occupazione e anche sull'occupazione a tempo indeterminato che sono record storici mai raggiunti in questo paese sono tutti naturalmente cose da consolidare sono elementi che possono come dire scivolare eccoli qua però questi sono dati che ci fanno capire che rispetto alla narrazione dominante che è quella di un paese in declino che in parte naturalmente è vero sull'aspetto demografico che peraltro avanti da 40 anni c'è poco da dire e che tra l'altro vive un contesto internazionale che è spaventoso perché abbiamo una come dice il Papa una terza guerra mondiale a pezzi ma questi pezzi si moltiplicano continuamente siamo in uno scenario terrificante beh rispetto a questa situazione questi numeri sull'occupazione sull'export che tiene sulle imprese italiane che riescono a fare affari sul PNRR che alla fine dopo che abbiamo in tanti detto che sarebbe stato un disastro sia pure tra difficoltà problemi oggi Repubblica racconta le dieci incompiute tutto quello che volete ma sta andando avanti allora io mi sentirei di dire che per alcuni aspetti si sta bene e forse si sta anche meglio poi il discorso non può mai essere bianco o nero perché ci sono invece alcune persone che hanno perso il lavoro che vivono situazioni di difficoltà che davanti alle parole che sto dicendo probabilmente mi prenderebbero a ceffoni però voglio dire il clima complessivo non è così negativo come viene descritto c'è mancanza di mano d'opera e questi quattro anni prima che discutere sulla riforma antifornero perché c'è una riforma fornero e un antifornero che fa parte appunto della mistica salviniana prima che discutere della riforma antifornero salviamo la professoressa vorremmo discutere di come dovremmo discutere di come scusa vorremmo discutere di come far crescere la produttività di come dare stabilità al paese e di come sviluppare le imprese e far sì che finalmente si trovi la mano d'opera che ci sia mano d'opera qualificata e come ha detto ieri il presidente di Confapi in un'intervista a un quotidiano non è possibile che io se cerco dieci artigiani dieci tecnici non riesco a coprire i posti e sono sempre in ritardo e questa storia andrà superata il paese è chiamato superare questa cosa perché c'è la e poi Andrea Scanzi ci commenta le notizie sui redditi fra poco Luca allora la domanda era questa c'è una sorta di iperbole in questa differenza il più povero Conte 24 mila euro il più ricco Renzi 3 milioni e 2 di solito i più ricchi erano i paperoni del centrodestra Berlusconi Tremonti ora è tutto giocato in questa forbice Conte non ha percepito stipendio per quando era parlamentare quando era coordinatore e basta quindi che cosa vuol dire c'è una morale o un puro caso il fatto che la palmares del più ricco è ancora benzina per l'anticasta questa cosa frega qualcosa a qualcuno quanto guadagna secondo me sì ce lo dice Andrea Scanzi interessa molto meno non credo che oggi il libro di Stella e Rizzo sulla casta avrebbe il successo che ebbe 15 anni fa però bisognerebbe parlarne soprattutto della vicenda Renzi intendiamoci quello che sta facendo Renzi è necito da un punto di vista giuridico va sempre premesso perché lui fa delle cose eticamente discutibili ma giuridicamente intonse poi si potrebbe discutere sulle regole però sai intanto vorrei ricordare che questo qua Renzi fino a 7-8 anni fa bastava toccarlo venendo anche come me da sinistra e venivi scomunicato perché fino al 2015-16 c'erano giornaloni esperti fenomeni che ti dicevano future Renzi pensa a te come si era messo in questo paese dopodiché ragazzi c'è Renzi uno che guadagna sì sì per carità è stato Conte poi Conte l'ha fatto cadere Renzi io mi ricordo anche alcuni giornali alcuni opinionisti ma io vi vorrei domandare cioè Renzi prende tutti i soldi che prende lecitamente ok ma intanto mi ricordo 5-6 anni fa Renzi andò ospite da Matrix che penso lo conducesse Porro e disse sventolando il suo conto corrente si vendolo io c'ho solo 10-15 mila euro chi vuole fare soldi non deve fare politica e viceversa è stato appena incoerente cosa stranissima perché lui è proprio l'emblema della coerenza sotto tutti i punti di vista poi vorrei ricordare che questo è senatore cioè va benissimo che tu faccia conferenze da tutte le parti ma non puoi fare il senatore a tempo perso cioè quando lui dice lo fanno anche Blair Obama ho capito ma Blair e Obama non fanno più politica e aggiungo e mi fermo io trovo inaccettabile per quanto lecito da un punto di vista giuridico che questo prenda soldi per esempio da Bin Salman cioè c'è poco da girarci intorno ragazzi questo prende soldi da Bin Salman e va da Bin Salman c'è una questione molto si è detto e molto ci sarebbe da dire prima però voglio passare 15 secondi da Francesca Schianchi per chiederti proprio ovviamente telegraficamente se anche secondo te questi temi legati ai guadagni cioè al di là di come si fanno che i guadagni alla fine le persone non interessano più come una volta sono abbastanza d'accordo con Schianchi interessano ancora ma penso anch'io che quell'ondata sia un po' passata sicuramente però quando leggono certe cifre restano impresse Ricconi siete salvi lascia gura invece si riferisce a Conte immagino cosa no Conte ha dichiarato 24 mila euro no ha detto si riferisce a Conte appunto si riferisce a Conte abbiamo veramente finito il tempo sono finiti anche i titoli di coda quindi ringraziamo Stefano Zullo la professoressa Elsa Fornero Francesca Schianchi per essere stata qui ricordiamo di Andrea Scanzi lascia cura Giorgia Meloni e il suo governo disastroso e adesso va in onda uno speciale su Elisabetta Seconda e su queste cose si rimane lì Elisabetta Seconda prende era un premierato forte ha sempre un suo appeal premierato forte giro di sedia abbiamo finito presto a domani presto a domani a domani